Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi porto un gioco di avventura e esplorazione che è Seven Continent della Sirius Pulp, che ringrazio veramente di cuore per avermi offerto una copia per la recensione ed è un gioco che su Kickstarter ha avuto un successo veramente stratosferico. Hanno guadagnato tantissimi soldi, gioco di avventura e esplorazione a tema fortemente narrativo, i miei preferiti, tra senza nemmeno metterci virgolette, chi mi segue da un po' lo sa, e soprattutto gioco che all'attivo ha già se non erro 3-4 espansioni, una cosa del genere. Comunque, era una vita che aspettavo di dirlo, faccio complimenti a mia moglie, finalmente ce l'ho anch'io e ci rivediamo a breve, fra qualche secondo, ma prima, sigla! Non mi sembra ancora vero di avere una sigla bellina tra l'altro, quelle sigle montate, galassie che esplodono, supernova, no, una cosa bellina con il logo di youtuber e una vita che la volevo. Comunque, parliamo appunto oggi di Seven Continent, che è un gioco fortemente esplorativo. È un gioco che si può giocare tranquillamente in solo, o si può giocare anche in cooperativa con altri amici. Le meccaniche sono molto semplici, si va a comporre una mappa con delle carte, carte che sono messe sempre in ordine numerico e non devono mai essere mischiate, quindi anche nella confezione stessa c'è un modo appunto per disporre, c'è un organizer per metterle a modo, perché se il gioco ti chiedesse di tirare fuori una carta numero 50 e te con la carta numero 50 non ce l'hai perché l'hai già messa sbagliando da una parte precedente, il gioco si blocca e quindi il setup deve essere molto attento. Ed è bellino perché racconta la storia di questi esploratori che vanno, scoprono e vanno ad esplorare questo settimo continente, appunto Seven Continent, ma arrivati in questo continente sono assaliti da una maledizione. Infatti è bello come gioco perché ognuno di noi all'inizio dovrà prendere una carta maledizione e dovrà trovare la maniera, esplorando questo settimo continente, di togliersi la maledizione, perché la maledizione ovviamente è arrivata in fondo, rischierà di ucciderti. Quindi il tuo scopo è di sopravvivere, esplorare questo settimo continente, ma toglierti la maledizione che c'è addosso. Quindi lo scopo principale sarà questo qui. Da 1 a 4 giocatori di età da 14 anni in su, secondo me due ore di gioco ci vogliono per fare ciascuna delle avventure perché sono veramente belle, non è un gioco legacy, sia chiaro, ha un'alta rigiocabilità, però ovviamente la mappa che andate a scoprire, poi per quanto le carte sono un casino, la mappa è quella. Quindi gli eventi che andrete ad affrontare sono belli da scoprire la prima volta, o nel caso alla seconda se lo falliate. Così vedete perché anche la storia cambia se fallite l'evento rispetto a farlo, però diciamo che alla seconda run avete già ben presente quello che vi si parerà davanti, però ci vengono incontro le espansioni che vi ho detto. Vi faccio vedere un po' come funziona. Intanto, unboxing, la scatola, per niente grande, però più che altro spessa da morire, bellino anche il disegno che ci sopra mi piace, molto semplice, però questa colorazione dorata ci sta, e la scatola è ricca di contenuto. Occhio, non vuol dire che ci sono tante pedine, tante cose da mettere in campo, però c'è uno sbotto di carte che non ve lo immaginate nemmeno. Carte che poi nel gioco non sono carte e basta, ma sono anche i tile di gioco dove vi andrete a muovere, o le sezioni di esplorazione, e pesa veramente piombata. Ve l'ho detta per quanto non è grandissima. Apriamo. Regolamento di gioco, chiarisco subito che è in inglese, e a quanto sappia una versione italiana non esiste, però io spero che qualcuno lo porterà in Italia, anche perché è un gioco bello come questo, di esplorazione e tutto quanto, insomma, sarebbe un peccato, ecco, non tradurlo. Anche qui si trova il regolamento tradotto in italiano, se lo volete scaricare ve lo lascio nel secondo link presso la Tana dei Goblin, ovviamente tradotto amatorialmente, tradotto bene e tutto quanto, quindi non è ufficiale, ma potete scaricare quello per giocarlo direttamente nella nostra lingua. E non è, allora, ci sono un pochino di cose da capire. Non è difficile come gioco, non è complicato, però come dico sempre è complesso, perché ci sono un po' di terminologie, e un po' soprattutto di immagini e più che altro di concine da tenere a mente. Volendo potete scannerizzare il QR code per vedere appunto video tutorial e cose del genere. Non è difficile, ecco il regolamento, per quanto le pagine sono anche poche, come vedete, però è un gioco preciso, è un gioco metodico. Se mettete una carta, per sbaglio, perché avete errato, in un punto dove non deve stare, più avanti quella carta vi potrebbe venire richiesta, non ce l'avete, avete bloccato il gioco. Quindi è un gioco più piatto di attenzione. Come vi dicevo, le espansioni che sono uscite quassù, che introducono nuove zone da esplorare e in più, per la mappa che andate a comporre, in più nuove maledizioni. Gli standi di cartone, dei personaggi che potrete andare a interpretare e muovere sulla mappa, che ovviamente come pledge, che non l'ho fatto io, nel Kickstarter c'erano proprio le pedine in plastica. Una tabella riassuntiva, una leggenda, con tutte le icone che potete trovare nel gioco, e poi dietro direttamente la sequenza del turno. Dadi da 6, che questo è un gioco senza dadi, assolutamente le azioni le risolvete con le carte, però questi dadi qui servono per me, sono la durability, praticamente, degli oggetti che troverete. Dovrete posizionare un dado su ogni oggetto che troverete, avrete nell'inventario, e ogni volta che lo utilizzerete, scalerete il valore di 1. E poi ragazzi, non vi faccio nemmeno vedere i mazzi di carte che ci sono dentro, perché sono veramente 7 milioni, e vedete, sono tutti quanti divisi per numero, che è qua su in cima, numero ovviamente crescente, andando avanti, prendendone l'altro, si va al 3,10, e li dovete dividere tutti nella scatola, scatola che poi non poteva essere diversamente anche un organizer. Quindi dovete, quando iniziate un'avventura, a Seven Continent devono essere messe tutte perfette e tutte accanto. Vi do adesso un po' un'idea sul gioco, per farvi vedere anche un pochino come gira. Guardate la vole di contenuti che ci sono dentro, ed è tutto un gioco di carte. Si va ovviamente sempre a pescare una carta, e si va a leggere, senza spoiler, quello che c'è scritto dietro. Come vedete, sono numerate in ordine, ovviamente crescente, 147, 148, e si va a comporre una mappa. Questo è tutto il contenuto del gioco, ovviamente più gli standi, in cartoncino, che ora poi vi faccio vedere, vado a montare. E ci sono un altro gruppo, ah, queste qui sono le abilità, i mazzi abilità generali, i mazzi bonus, e in più i mazzi personalizzati. Ognuno di questi dovrebbe averci 5 o 6 carte per ogni personaggio, perché magari un personaggio è più bravo di un altro a fare qualcosa. Carte esplorazione, che sono queste qui con la nebbia, e poi ci sono altre carte tile, tipo skill avanzate, save, che vi serve per salvare il gioco, perché se volete fare una partita e poi dovete staccare, dovete avere una modalità di save, oltre alla fotografia, che secondo me è sempre la cosa migliore, col vostro telefono, con il vostro smartphone per vedere poi come risettare tutto la prossima volta, e poi le carte banished, e tutte le altre. In un setup a due giocatori, dovete prendere le due miniature, dovete prendere i due segnalini fuoco, quindi uno per personaggio, li divido, poi ovviamente le due schede dei personaggi, perché vedete ciascun personaggio ha la propria scheda, e tre dadi per ciascun personaggio. I dadi non si tirano in questo gioco, sono la durevolezza, la resistenza degli oggetti che troverete. Dovete scegliere una maledizione, leggere ovviamente quello che c'è scritto, ed è bellino questo gioco, perché dovete giocare insieme per distruggere, abbattere questa maledizione. Maledizione che vi darà dei clue, quindi vi dirà che cosa dovete fare per spezzarla, però sarete voi, muovendovi sulla mappa, a capire come e soprattutto dove spezzare la maledizione. Leggete l'introduzione, poi vi dice mettete il tile di gioco 10, quello che poi vi faremo vedere, il numero 10 ne lo andiamo a mettere. Mazzo delle carte, di tutto questo qui è l'action deck, di tutti quanti i giocatori messi insieme, e la satchel sotto cui andrete a mettere gli oggetti. Quindi vedete nel setup ci dice che in un setup a due, possiamo tenere tre dadi, quelle sotto bianche sono le tipo di combinazioni che si possono fare fra gli oggetti, perché è un gioco anche alla fine survival. Ti puoi prendere una pietra ad esempio, e con quella pietra puoi costruire un fuoco, un bonfire, quindi comunque ti fa vedere i tipi di combinazioni che puoi fare, e quante carte puoi tenere in mano, che sono le carte blu, sono le carte abilità, e le carte verde sono le carte bonus che potete tenere. Ovviamente quando trovate un oggetto, gli oggetti li dovete mettere sotto alla satchel card, per ricordarvi che le portate dietro. E qui nel mazzo ci sono 35 carte generiche, in comune per tutti i giocatori, più 5 carte per ogni personaggio, perché praticamente ognuno di loro magari è più bravo a fare qualcosa. Per la maledizione che abbiamo scelto, ci dice metti la carta 10, quindi no, leggete sempre, è un gioco narrativo, quindi leggete quello che c'è scritto, che vi dà un input su come inizia l'avventura, e mettete la carta, e ci mettete sopra i due personaggi di partenza. Le metto un pochino di lato, per non coprirvi quello che c'è sopra. Quando andate a mettere una zona, e vedete che ci sono dei simbolini arancioni, con un numero romano, voi li dovete andare a prendere dal mazzo, esplorazione con il numero romano stesso, che avete trovato sulla carta. E ovviamente questo lo andate a mescolare, perché sono mazzi che vanno mescolati, e poi andate a girare tante carte, quante sono le direzioni che vedete qui, e le dovete sempre mettere, che vadano a collegarsi per dove ci sono le frecce. Vedete, ci sono delle frecce, che vi dicono come potete collegarlo. Quindi questa esplorazione lo potrei mettere, ad esempio, così, e di qua ci potrei mettere questo. Quando girate delle carte esplorazione, possono essere o delle carte persistenti, quindi che rimangono in gioco, o possono essere anche oggetti direttamente, perché, come voi vedete, io ho rivelato questa qui. Ah, non li dovete rivelare subito, all'inizio li dovete mettere, sempre come nebbia, perché sono zone inesplorate. Quando successivamente andrete a fare un'azione sopra, entrandoci sopra ovviamente andrete a rivelare direttamente quella zona lì. Comunque, quando l'andrete a rivelare, come avete visto, possono essere zone di esplorazione con delle azioni da fare, o anche oggetti che potete prendere. All'inizio di ciascun turno dovete scegliere qual è il giocatore attivo, e il giocatore attivo, che magari, mettiamo caso, è questo qui, farà una sua azione, perché ogni turno si fa soltanto un'azione, e nel caso potrà farne fare un'altra al giocatore secondario. O se no, visto che è un gioco cooperativo, se tutte e due sono d'accordo, potrebbe farne lui direttamente due. Ora, prima di andare a esplorare queste carte, vedete che c'è il mazzo in comune, come vi ho detto, il mazzo in comune da cui andare a pescare delle carte, perché in questo gioco, ve l'ho detto, è un gioco esplorativo dove voi dovrete andare a togliervi la maledizione che avete addosso. E sulla carta dove siamo adesso, vedete che ci sono varie opzioni. C'è un'opzione qua giù di cammino, con questo simbolo qui, che vuol dire tutti i personaggi si muovono, che questo serve per spostare tutti i personaggi. Cosa vuol dire? Se io vado a fare, ci chiede l'azione di girare una o più carte da questo mazzo e di fare un risultato di zero stelle. Quindi basta prenderne, girarne una direttamente, non servono le stelle nel conteggio, che poi vi dico come si leggono e come si vanno a interpretare, per spostare tutti e due i personaggi, sia quello del giocatore attivo che quello del giocatore secondario, in un'altra zona. Quindi è un'azione di movimento. oppure si possono andare a esplorare queste due zone, perché vedete sono quelle collegate, quindi prima di andare a vedere effettivamente quale è il tile di gioco, che poi è lo 007 che ve lo dice, prima bisogna esplorare per vedere che cosa c'è. Poi dopo, quando questa carta esplorazione, almeno che non sia una carta persistente, verrà rimossa, ci metteremo direttamente il tile della mappa. Oppure sulla mappa stessa ci potrebbe essere un'altra azione che ci dice di pescare una carta o più, ancora una volta ne vado a pescare una, quindi una carta o più e non ci serve nessun risultato. Però ovviamente vedete che piano piano il mazzo delle azioni generali si va ad esaurire e questa è la meccanica più importante del gioco, perché all'interno ci sono anche le carte a maledizione. Comunque, scartate un'altra carta, una o più, visto che non servono risultati, ne prendete una soltanto, e andate a mettere qui la carta 005. E sia chiaro, ci sono a volte più carte, più carte verdi, magari con lo 005. Sì, e non vi voglio spoilerare nulla, vedete, c'è una carta 003 verde e una carta, ad esempio, 003 gialla. Le carte dorate, almeno che non sia il gioco a dirvi di metterle, le dovete mettere solo quando non ci sono carte verdi disponibili. Comunque, noi si va a prendere la 005, che è questa qui. Si legge ovviamente quello che c'è scritto sopra e si va a girare. La freccia deve sempre connettere verso la zona da cui siete arrivati. Ed è una scogliera. Ora, ovviamente, facciamo conto che il giocatore, il primo che ha fatto questa azione per esplorarle, lui, e quindi si è spostato qui. Fa anche la seconda azione, perché l'altro giocatore glielo concede. Ah, in questo gioco vi potete dare una mano nelle azioni se siete nella stessa casella. Ovviamente, anche passarvi oggetti e tutto. Se no, potete andare ognuna all'esplorazione divisa, ma in quel punto, in quel momento lì, non vi potete più aiutare. Ora, mettiamo caso che lui da solo è andato in questa zona qui, e il gioco ci dice di fare un'azione che è elencata qua sopra. Se la facciamo, barra bianca, ci dice il risultato positivo, cosa andare a pescare. Se la falliamo, ci dà un risultato negativo, cosa andare invece a pescare. Quindi, se riusciamo la 0,26, se falliamo, invece, la carta 104. Ci dice di pescare una o più carte, ma bisogna fare due risultati. Ora, prendendo le carte quassù, voi vedete che su qualsiasi carta del gioco, tutte, qualsiasi carta di questo mazzo qua giù, ovviamente, a parte le maledizioni, ci sono delle stelline qua giù, in bassa a sinistra, in questa parte qui, disegnate. Voi dovete prendere queste stelline, e dovete andare ad unire le metà, o a volte trovate anche stelline già composte, per fare una stellina unica. Ad esempio, se io avessi detto, per fare questa prova, pesco due carte. Non ne voglio pescare troppe, perché non voglio finire il mazzo delle azioni. Ne pesco soltanto due, sperando che mi vada bene. Io avrei pescato questa, con una mezza stellina, e questa con una mezza. Le vado ad unire, ho fatto una stellina, sì, però la prova l'ho fallita, perché la prova mi chiedeva di avere due stelline. Ci potevano venire incontro oggetti, ovviamente oggetti che abbano la stessa icona della prova che è andata a fare, perché non posso, se c'ho un oggetto, ad esempio una cetta, a cosa mi serve per una scalata? Se c'ho una zattera, a cosa mi serve per una scalata? L'oggetto usato deve sempre avere il simbolo stesso della prova che è andata a fare. Quindi nel caso potrebbe darvi un bonus. O nel caso un altro giocatore fosse stato insieme a me in quella zona lì, potevamo fare una cosa molto interessante. Potevamo abbassare, non è questo il caso, però lui poteva usare degli oggetti per darmi una mano a sua volta, oppure potevamo abbassare di uno le carte azione da pescare e alzare di uno la difficoltà. Uno potrebbe dire, ma allora sei matto, perché? Ad esempio, mettiamo a casa la difficoltà, forse è stata un 3-3, così la facciamo facile. Un 3 carte da pescare e un 3 stelline da fare. Difficoltà sicuramente altissima, però io potevo abbassare quelle da pescare e quindi diventava un 2, però la difficoltà a sua volta salzava, quindi gli sarebbe diventato meno uno qui, più uno di qua. Quindi da 3-3 diventava un 2-4. Potrebbe sembrare un suicidio di massa, ma non è così, perché il gioco ci dice che quando questo mazzo qui blu delle azioni, l'action deck finisce, quando questo mazzo qui va a finire, vanno tutte nelle scarti, ovviamente le carte, girate sempre a faccia all'insù. Quindi quando andate nella pila degli scarti le mettete a faccia all'insù perché le potete andare a ricontrollare. Ah, vedete che qui sono uscite due stelline. Quindi già girando soltanto questa carta per fare un'azione, avevo superato la prova. Comunque, quando il mazzo è finito, e non potete più fare niente, dovrete andare a rimescolare tutte quante le carte, del mazzo degli scarti per riformare un mazzo delle azioni. Quindi nel caso, facciamo conto, tutte queste sono state utilizzate, sono tutte scartate, si va a rimescolare il mazzo. La difficoltà di questo gioco sta tutta qui perché il mazzo delle azioni lo dovete vedere un po' come il mazzo delle energie dei vostri personaggi, della vostra squadra. Se metti caso, ti vai a pescare una carta per fare un'azione da un mazzo scarti rimescolato per formare un nuovo mazzo azione e ti esce una carta così viola che ho scritto Kurz, la missione è fallita. Tutti i giocatori perdono la partita, tutti. Perché? Perché ovviamente la maledizione che ti porti dietro ha finito per ucciderti, farti impazzire e non sei riuscito a trovare il punto sulla mappa per togliertela. Quindi, finire, se è la prima volta che andate a fare una prova non avete mazzo di scarti, voi andate a fare una prova ed esce una Kurz, non succede niente, non vi dà risultati, pescate un'altra carta, andate avanti. ma quando il mazzo sarà completamente finito e lo andrete a dimescolare col mazzo normale come uscirà una carta Kurz, tutti, no? Il giocatore attuale, tutti i giocatori avranno perso la partita perché qui o si vince o si perde tutti insieme. Quindi capite bene che è bene non sprecare tutte le carte che c'è qui. E quindi ha un senso abbassare il numero di carte che si vanno a pelare alzando la difficoltà però magari uno dice con due carte e con l'equipaggiamento che ho mi potrebbe andare di fortuna che io riesco ad esempio a fare quella prova lì perché magari non lo so c'ho un oggetto col simbolo che mi va a richiedere la prova che mi dà due successi automatici. Quindi io con quell'oggetto ce la posso fare. Ricordatevi sempre che sulla carta oggetto ci dovete mettere un dado per la sua durevolezza. Ad esempio la carta che vi ho fatto vedere qui prima se la andiamo a girare che è un giubbotto di salvataggio ci fa vedere che ha una durevolezza di 4 quindi lo metto qui. Ogni volta che andrò ad utilizzare questo oggetto per le prove qui sotto elencate quindi ci fa vedere in che tipi di prove con l'icone lo possiamo utilizzare io a quel punto lì una volta che l'avrò utilizzato scalerò il punto di 3. Banale dirvi che quando arriva a 0 la carta praticamente è inutilizzabile e va distrutta. Quindi cosa importante cercare sempre di conservare le carte il più a lungo possibile. Ora mettiamo caso che io aiutato non aiutato a quello che mi pare sia riuscito a superare la prova quindi superando la prova mi dice 0.26 vado nel mazzo apposito e la vado a pescare che è questo qui con lo 0.12 leggo ovviamente quello che c'è scritto è per questo che vi dico ragazzi che è un peccato averlo solo in inglese perché c'è anche da tradurre è un gioco bellissimo uguale però in italiano sarebbe stato sicuramente più facile e qui ci dà una clessidra quando vedete una clessidra vuol dire che è una carta temporanea quindi questa carta qui ovviamente dice metterci la 0.26 che è questa qui che abbiamo pescato la 0.26 e scartare questa quindi questa va scartata via ci va la 0.26 che ci dice legge la descrizione quello che hai trovato una cosa o un'altra e dopo bandisci la banish come vi ho detto all'inizio la mettete nella parte banish del tavolo e metteci una 0.10 come vedete è una carta 0.10 che è gialla perché io verdi non ce l'ho più perché quella verde era questa vi ricordate no? quindi questa verde la vado a levare la vado a mettere nella zona passata del gioco e ci metto la 0.10 nuova che è praticamente uguale a quella che avevamo prima con le stesse azioni e tutto quanto con la differenza che non c'è più il punto esplorabile qua giù è come se in un videogioco vi dicesse quella zona lì è già esplorata quindi non c'è più e quindi i nostri personaggi tornano qua se invece la prova l'avessi fallita la carta di prima mi diceva se fallisci la prova pesca una carta 104 andate a vedere ovviamente nel mazzo 104 la girate e ci dice che la prova l'abbiamo fallita quindi la possiamo anche rifare se una prova la fallite la carta non va via almeno che ovviamente non ci sia scritto però nel caso la potete riprovare io mi sono preso una ferita questo mi dice mano rossa scartare carta disegno sotto praticamente voi dovete scartare tutte le carte che avete dalla vostra parte o nella vostra satchel che abbiano il simbolo di una mano rossa e per ciascuna di esse ovviamente poi siete anche ferite feriti quindi dovete andare a scartare tutte le carte con la mano rossa compresa la scheda di partenza del vostro personaggio perché se la scheda di partenza del vostro personaggio ha una mano rossa questa va scartata se ne va via e vi siete presi una ferita ferita che ovviamente vi darà dei malus al fine dell'avventura e dovrete andare a curare quando invece voi andate a pescare una carta si va qui si fa la prova che ci sarà da fare anzi no in questo caso qui non c'è prova andiamo a prendere l'oggetto che c'è quindi life jacket io l'ho preso l'ho trovato me lo prendo e me la metto nella mia satchel e qui poi dopo ti dice dopo che è esplorato quindi dopo che è elevato la nebbia ci devi mettere la carta 007 che è questa qua quindi come vedete per anche stare attenti se l'avete connessa bene vedete che porta alla 007 e questa riporta indietro alla 010 tornano i numeri sì ok quindi mi sposto vado avanti nell'avventura ricordatevi sempre l'azione che vi dice qui per portarvi dietro anche direttamente un compagno con la stessa azione decidiamo che è il giocatore attivo questa volta praticamente il leader del gruppo e qui ancora una volta ci sono varie azioni vedete che questa qui è una zona più che altro chiusa dal mare quindi qua e qua non ci potranno essere terre sicuramente però magari ci sarà la possibilità di visitare un'isola una prova con un occhio qui e un'altra prova di osservazione prove che posso fare oppure posso tornare indietro e prendere un'altra strada perché ricordatevi che qui non ci sono altre strade quindi per forza questo qui è un promontorio un picco dovrete tornare indietro quando andate a pescare carte con le azioni ricordatevi sempre le stelline per misurare i successi ricordatevi che se qui c'è il simbolo di una scaletta vuol dire che per fare la prova dovete essere tutti i giocatori del team quindi io qui da solo una carta con una scaletta non la posso fare non la posso utilizzare non posso fare la prova perché con quella scaletta vuol dire che mi serve l'aiuto di altri se c'è un lucchetto vuol dire che anche se siete in due non potete né alzare né abbassare la difficoltà occhio se avete oggetti che vi danno dei bonus lo potete fare però non potete fare più il giochino che vi ho detto prima perché la difficoltà non si abbassa cioè la difficoltà non si alza e le carte non si possono abbassare quelle da pescare ultima cosa quando andate a girare carte dal mazzo ve l'ho detto delle azioni e qui è uscita la maledizione quanto sono sfigato io non è sfigato nessuno quando escono carte o con una mano blu o nel caso che le trovate nel gioco con una mano verde magari avete girato tre carte e di queste tre carte ce ne sono tre con la mano blu potete il giocatore attivo sceglie di tenerne una e una soltanto e quell'altra vanno nella pila degli scarti potrebbe dire ma questa qui cos'è è un oggetto è una pittura di guerra è qualcosa che mi potrebbe servire oppure quest'altro qui è un'altra cosa che mi potrebbe servire facciamo una cosa io di queste carte ne posso tenere una sola o se la tiene lui e se la mette nel suo inventario o la dà al suo compagno però il compagno ovviamente si deve trovare nella stessa zona insieme a lui il limite è sempre indicato dalla Satcher Card che ci viene incontro e ci dice quante carte verdi a seconda del setup iniziale possiamo tenerne verdi e blu ragazzi il gioco ovviamente io vi do un'infarinatura però il gioco bene o male tutto qui poi ci sono molte altre regole molti altri simboli da tenere sotto controllo ci sono la fase molto più articolata di quello che vi ho detto io comunque l'idea del gioco è quella che voi dovete andare all'esplorazione mettere carte girarle superare prove e dovete sempre seguire l'avete sempre sotto controllo la vostra carta clou che sono gli indizi della vostra maledizione perché qui c'è scritto come risolverla addirittura in alcune carte maledizione vi dà proprio una mappa avete trovato una mappa da seguire per trovare l'idolo che vi toglierà la maledizione quindi voi la carta clou dovete leggere qui vi dice quello che dovete fare quello che dovete scoprire e qui davanti vi dà degli indizi perché magari vi potrebbe parlare di mare scogliere e magari per togliersi la maledizione potrebbe proprio essere in questo punto qua è un gioco su cui dovete prestare la massima attenzione e il massimo lavoro di gruppo ragazzi in conclusione è un gioco bellissimo è un gioco spettacolare è un gioco ricco di avventura però è un gioco che richiede tanta attenzione punto uno per portarla a giro una cosa o un'altra magari si è fatto le tre di notte si è giocato lento fra risate scherzi si è mangiato una pizza con gli amici siamo lì talmente stanche che da rimette a posto occhio perché qui non vorrete mica poi non muore nessuno però se la carta 70 l'andate a mettere nel mazzo 0-0-0 oppure se un altro tipo di carta l'andate a mettere in un punto dove non dovrebbe stare poi quando l'andate a pescare la partita dopo vi immaginate fra un migliaio di carte che ci sono in questo gioco aspetta dove era la 20 ah l'ho trovata era da 150 in su cosa ci fa dovete rimetterlo a posto perfetto preciso e tutto però ci vengono incontro anche questi divisori qua giù alti vedete in cartoncino da mettere dentro la scatola queste sapete che sono dallo 0-0-0 fino allo 0-0-4 qui dietro si parte dallo 0-0-4 poi c'è lo 0-0-0-5 e questi qui li mettete nella scatola per non sbagliarvi però rimettere a posto questo gioco non è allora il gioco è semplicissimo solo bisogna starci attenti se qui c'è qualcuno ce l'avrete nel gruppo io ce l'ho anch'io quando si va a giocare magari qualcuno rimette a posto si butta lì butta lì butta di là casino cioè prendilo il gioco un tirico rivendilo ma quasi perché impazzisci ti ci vuole e torna a casa al giorno dopo con molta karma rimetterle tutte a posto e poi Sei pronto per giocare Non è un gioco legacy Perché se noi seguiamo questa strada E andiamo che poi le maledizioni sono tre Quindi ci sono tre modi e tre zone dove toglierle Però diciamo che giocate tutte e tre gli scenari Potrei dire vabbè io la storia bene o male la conosco So dove andare a togliere la maledizione Quindi seguirò sempre una strada È normale quello Però magari nel frattempo ci sono tante altre zone da esplorare Perché il gioco ti racconta una storia E poi ci sono anche i combattimenti da fare Perché ci sono anche mostri, creature marine da combattere Quindi è un gioco low fantasy comunque Anche con la componente ce l'ha Se le devo dare un voto a Seven Continent Assolutamente le do un 9 su 10 Meritatissimo Se siete amanti dei giochi d'avventura È il gioco che fa per voi Trovate il regolamento italiano tradotto dalla Tana dei Goblin Tra l'altro molto bene Però il gioco ragazzi Carte e tutto quanto è in inglese Io spero che qualcuno lo tradurrà Ma ce ne vuole a tradurre questo gioco Perché c'è tanto di quel testo Che tradurre il Silmarillion Secondo me ci si avvicina Fatemi sapere cosa ne pensate Primo link è in descrizione dove acquistarlo Secondo link vi lascio quello del regolamento in italiano Più tutti quanti i nostri social a seguire Ciao ragazzi alla prossima